Questo è il mio sogno, che il mio paese diventerà libero e che potremo poi, avendo tutte queste esperienze che noi abbiamo ora e questa forza che abbiamo dentro di noi, andare avanti e costruire un paese libero e democratico, io credo che tutto andrà bene e prima o poi riusciremo a vincere il buio.